Anche il liceo Ariosto di Ferrara il 20 e il 29 maggio del 2012 subì i danni dovuti alle scosse del terremoto in Emilia. Lesioni con distacchi in corrispondenza dei giunti, lesioni alle travi e danni ai solai. Dopo un anno e mezzo di lavori costati alla provincia di Ferrara quasi 360 mila euro, finanziati nell'ambito del programma degli interventi post-sisma della regione Emilia-Romagna, Ora la struttura del liceo è stata messa a norma antisismica e come ha detto la dirigente scolastica Mara Salvi, ora siamo in una situazione di serenità. I lavori principali hanno riguardato i solai, in realtà questa è una struttura di tipo prefabbricato per cui è stato necessario collegare le travi dei solai alle strutture verticali con delle piastre appunto di collegamento. Inoltre sono stati riparati i danni dei cupolini in laterizio di cui è costituita la copertura nei quali il terremoto aveva staccato delle parti del laterizio. Un altro grosso intervento è riguardato l'esterno con il ripristino di tutti gli elementi in calcestruzzo che un po' per il tempo e sicuramente acutizzati dal sisma erano particolarmente degradati e distaccati e quindi esponevano l'armatura metallica del calcestruzzo a un ulteriore degrado. Sicuramente questo impatta fortemente con l'attività didattica ma devo dire che la collaborazione attiva di tutte le parti che sono state coinvolte in questo processo è stata determinante perché tutto potesse svolgersi in senso compatibile. Quindi abbiamo organizzato in modo puntuale gli interventi e questo ha reso possibile vivere con i muratori in casa che è sempre un'esperienza molto dura. Grazie a tutti.